Bisogna indurire i piedi, prepararli per un lungo cammino, per non farsi venire le vesciche, indurire però anche il carattere, prepararsi ai lunghi silenzi, alla paura, alla solitudine. Questa è la lezione che imparerà molto presto Robin Davidson. A lei è dedicato, alla sua avventura è dedicato Trax, il film che arriva nelle fine settimane nelle sale, è stato presentato in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia, diretto dall'australiano John Curran, un film insolito, racconta appunto la straordinaria avventura di Robin Davidson, questa viaggiatrice che nel 1977 percorse questo lungo viaggio, questa straordinaria avventura, partendo dall'Australia centrale per arrivare fino alle coste dell'Oceano indiano. Perché lo faccio? Si chiede a un certo punto, glielo chiedono i viaggiatori che la incontrano per strada. Diventa ben presto la signora dei cammelli, perché affronta questo viaggio da sola, in compagnia di quattro cammelli e di un cane. Il 1977, dicevamo, mentre nel mondo infuriavano le proteste, i giovani erano impegnati in altro, lei prova questa sfida insolita, che è altrettanto importante. Il film va alla scoperta di un personaggio, lo rivela, un personaggio che era stato raccontato poi dal reportage che era stato pubblicato sul National Geographic. È importante appunto, dicevamo, perché rivela una storia conosciuta non a molti, il profilo di un personaggio veramente interessante, una sorta di into the wild, verrebbe da dire, che ha però esiti completamente opposti, anche e soprattutto per quanto riguarda l'epilogo. Comunque è un film interessante, che purtroppo non sfugge a una polla retorica del bel paesaggio, che però invece assolutamente rifugia alla retorica della letteratura sulla fuga. È un film molto più impegnato e con un profilo di alta scuola.